Isola dei famosi Isola dei famosi, il fuorionda di Alessia contro Ellen Gli animi si scaldano all'Isola dei famosi, uno spezzone non mostrato al pubblico di un fuorionda mostra una lite piuttosto accesa tra Alessia ed Ellen. Le due infatti non hanno smesso di punzecchiarsi tutto il tempo. Dopo un botta e risposta durante l'ultima puntata è accaduto molto di più a telecamere spente. I commenti di Elena delle ultime settimane non sono piaciuti e Alessia Mancini in particolare non ha gradito il comportamento. Della concorrente che al suo arrivo in palapa non le ha stretto la mano, un gesto veramente poco carino, il saluto non si nega a nessuno, mi vergogno per te. Ovviamente è arrivato l'attacco di Elena, salutarmi e da ipocriti. Perché devi abbracciarmi qui quando mi sputeresti addosso se mi incontrassi per strada. Che non ci fosse una reciproca simpatia era piuttosto chiaro, nelle ultime ora però è venuto fuori il video di un fuorionda nel quale viene mostrata la reazione di Alessia che. Approfittando della diretta, ha parlato con gli altri naufraghi tutta questa cattiveria le si ritorcerà contro. Non è ancora chiaro cosa volesse intendere Alessia se era solo una supposizione o se comunque. Darà filo da torcere alla concorrente per ripagarla del suo comportamento poco carino ed educato nei suoi confronti. Grazie per la visione!